Torino, gennaio 2023. Partenza della 25esima edizione del Rally di Monte Carlo Storico. Ragazzi siamo in piazza San Carlo il giorno prima della partenza della Rally di Monte Carlo 2023 da Torino. La quiete prima della tempesta. C'è una Tesla ragazzi, la Tesla prima della tempesta. Si parte da Torino, ci sono auto e team italiani, ma anche inglesi, francesi, tedeschi e spagnoli. Un'auto italiano. Oh beh, guarda. Perché non chiedi un'auto italiano? Alcune auto sono arrivate in piazza la sera prima, ma la maggior parte, comprese le staffette, arrivano oggi nelle prime ore del mattino. Ti sei mai chiesto come funziona la partenza di un rally così importante? Bene, ci sono qui io a raccontartelo. È una festa, la festa dei motori, di quelle auto costruite a cavallo tra gli anni 60 e gli anni 90. Piazza San Carlo, brulica di auto sportive che hanno fatto la storia. Bello vedere quanto l'automotive classico riesca a muovere economia e turismo nella nostra città. Alle 19 lo start dal cuore del capoluogo piemontese. Si parte da qui, per poi valicare il colle del Moncinizio fino a Gheb, in Francia, dove nella notte si concluderà la tappa d'avvicinamento per la venticiquesima edizione di questo rally storico. A questa gara parteciperanno grandi classiche, che hanno scritto alcune tra le pagine più romantiche dei 50 anni di rally mondiale. Come per esempio la Porsche 911, la Stratos, la Lancia Fulvia, la Fiat 131 Abarth, Lancia Beta Coupé, Renault 5 Turbo, BMW 2002, l'Audi 4 del 1981, l'Alfa 1750, poi Alpine A110, le Mini Cooper e tante altre. Tutte vetture di un'epoca irripetibile che ha avuto un fascino unico. Io nel frattempo intervisto alcuni team che parteciperanno alla gara e che si stanno preparando per la partenza di questa gara. 65? Sì. Mi piace. È bellissimo. Che macchinetta! 1965, pensateci! È la prima volta che facciamo questo tipo di manifestazione e non avevo mai fatto il Monte Carlo storico, lo faccio proprio per una questione di prestigio. Vediamo un po' come va. Speriamo ci sia un po' di neve, ma dalle previsioni non sembra. Buongiorno! Buongiorno! Parli italiano, parli inglese? Inglese, ho fatto la gara due anni con una gara e è stato terribile. E poi con una Porsche 924. Ok. E poi abbiamo fatto sei anni con una Lancia Fulvia e una buona gara, ma un po' di neve. Ok. Sento un pochino di temporale, è cambiata totalmente l'atmosfera della piazza, come se tutti si fossero improvvisamente svegliati, sono arrivate le italiane. Grazie per la visione! Senti che puzza di benzina, è meraviglioso! Si è scaldata l'atmosfera, sono arrivati un gruppo di macchine italiane bellissime, allora raccontateci in due parole cosa succede. Sì, quest'oggi siamo qui per la cerimonia di apertura delle vernelli del Monte Carlo, historic, noi come team LPS Competition abbiamo portato giù le nostre vetture, le Lancia, la Lancia Delta S4 e la Lancia Delta Evoluzione. Siamo molto contenti e soddisfatti che parta da Torino e che siamo stati appunto invitati per far sì che accompagniamo all'uscita di Torino le vetture che gareggeranno poi per l'istorico. Non vorrei che le facesse sfigurare queste vetture però con questa bellezza qua dietro. No ma cerchiamo solo di accompagnarle, fare la passeggiatina, chiaramente sarebbe bello poter scaricare la cavalleria di queste vetture ma oggi è un giorno di festa. Dai facciamolo! Oggi è un giorno di festa, possiamo fare un po' di rumore, se ci daranno un po' di spazio un paio di marce e le mettiamo. Diff, ma dove mi hai portato? In un posto fantastico oggi, qua ti ho fatto un regalone, qua ti ho fatto un regalone e c'è di tutto. E queste autostaffette qua sono stupende, cioè io non le ho mai viste insieme così tante. Che cosa succede con le autostaffette? Praticamente ogni auto che parte va sul palco, sta un minuto sul palco, è affiancata da una di queste auto, poi parte l'auto che gareggerà di Monte Carlo, dietro si infilerà un autostaffette che poi farà il giro, quindi ci sarà modo di sgasare un pochino. Non vediamo l'ora, non vediamo l'ora, poi ritornerà indietro siccome sono 40 le auto ma saranno 132 gli equipaggi che partono faranno un po' di giri. Quindi si sentirà un bel sound stasera, dalle 19 in poi, quindi dalle 7 in poi stasera. Grazie, grazie e complimenti per queste auto meravigliose. Questa però anche non è male, perché è una Porsche comunque, la 911 classic, così, carrera. Tanta roba, io devo dire che io la farei una competizione con questa, ma sai come ti diverti? Ma infatti perché non? Ma sai come ti diverti? Dai, organizziamoci. Dai, l'auto la prendi tu. No, via la te. Abbiamo una A112, ma tu non sei italiano? Come mai? Come mai? Perché se è una vettura molto buona, se è internazionalmente riconnuta, allora io ho chiuso questo dell'ambassata italiana a Madrid. Ok, è la prima volta che lo fai? No, è la settima volta, spaziale, bellissimo. Tutti con l'A112. Tutti con l'A112? È arrivato tutte le volte. Sì? Sì. Fino in fondo, sana e salva. Sana e salva. Questa ha una struttura più forte della Panda, quasi. Vero? È per la nieve. È perfetta. Perfetto. È trazione anteriore questa? Trazione anteriore, sì. Senti, noi mentre chiacchieriamo, i ragazzi di Mafra ti danno una bella pulita, una sistemata. Perfetto. Ho scoperto che sei già cliente Mafra. Eri già cliente? Dopo, allora io ho chiuso dei prodotti. Alec, come ti trovi? Io vengo. Una ragazza appassionata di young timer, automobili così non si vedono tutti i giorni. È vero, però sono effettivamente un'appassionata, poi la lancia. Siamo girati e è arrivata questa parata clamorosa. Apre le dote. Ciao. Come stai? Sì, sì, sì. È bello vederti. Mi fa piacere. Allora, noi sappiamo che in Erelli c'è la terra, la pioggia, i moscerinzi. C'è di tutto e di più. Mettiamo qualcosa di idrorepellente, di... Spiegami, cosa è questo? Rinespeed, che è uno strato di idrorepellenza, una specie di tergicristallo invisibile, che fa scivolare l'acqua. Facendo scivolare l'acqua, aiuta a mantenere il parabrezza pulito. In gara è molto utile. Ti limita l'utilizzo delle spazzole, vedi di più, vedi di più. Di notte ancora più, perché non avendo proprio lo strato d'acqua sul parabrezza hai una visione nitida della strada. Facile da applicare. Spruzziamo il prodotto direttamente sul pad e con movimenti lineari lo andiamo ad applicare sul parabrezza. Il prodotto va però praticamente quasi subito. Con un altro panno ci possiamo aiutare nella rimozione dell'eccesso del prodotto. Se vogliamo dopo 20 minuti o 25 minuti possiamo riapplicare un altro strato per creare ancora più effetto di idrorepellenza e autopulizia. Questo è un quick detailer di finitura della carrozzeria per far sì che la macchina possa comunque già poi presentarsi in una maniera abbastanza deconosa. Con questo fantastico prodotto per le plastiche, protettore, per le plastiche sia interne che esterne, ottimo come dressing per le gomme. Per avvivare le plastiche esterne direi che ci siamo. Do l'ok, pollice in su per il prodotto. Fammi vedere queste gomme. Ragazzi vi presento Marco Mattioli che oltre ad essere un grandissimo appassionato della cura dell'auto è anche uno dei piloti di questa edizione della rally di Monte Carlo. Siamo tutti quei che speriamo che arrivi in neve perché è più divertente, perché vai di te verso, perché ci sono tante incognite, perché tutto è più complicato e più divertente. Ma non è detto che non mi troverai. Io ci prego e ho visto molto spesso che se c'è un piccolo scampo di neve gli spettatori la mettono in strada. Quindi ti puoi trovare un venti metri di neve nel tornante che non ti aspetta. Ho visto un sacco di appassionati, poi devi sapere che io adoro le Young Timer. Sì. Questa rally di Monte Carlo Classic per me mi riempie il cuore di gioia. Esatto, è così perché quest'anno si arriva fino all'82, quindi cominciano ad arrivare, siamo entrati negli Young Timer. Io sono preoccupato per le temperature perché ho voluto provare a togliere il filtro e mettere le trombette per sentire il rumore. Fammi vedere. Queste sono nuove di pacche, le abbiamo messe su quest'anno per la prima volta che provo il rally. Ci sono due correnti di pensiero sulle trombe. Chi dice che guadagna più i cavalli, io l'ho fatto per il suono. Chiaro. Però ho paura, mi hanno messo un po' di paura perché con il freddo la benzina ha dei problemi. Quindi mi sono riportato il filtro, nel caso mai vedevo che ci sono problemi, rimontiamo sul filtro. Certo, just in case. Just in case. Ok, ok, fantastico. Che succede in questa fase qui? In questa fase tutti gli equipaggi entrano e fanno le verifiche sportive. Verificano tutti i documenti, quindi verificano che i documenti che tu hai presentato in fase di iscrizione corrispondano alla realtà. Quindi ovviamente l'equipaggio, navigatore, pilota, si presentano davanti al commissario, presentano i documenti, patente, iscrizione, eccetera. E loro verificano che tutto sia perfettamente uguale all'iscrizione che tu hai fatto. Dopo, all'esterno, passano invece i commissari tecnici a verificare che l'auto corrisponda, abbia tutti gli istituti di sicurezza e corrisponda a quello che tu hai dichiarato in fase di iscrizione dell'auto. Quindi la cilindrata, anche lì sappiamo benissimo che magari si può fare qualcosa, però in linea di massima si cerca di capire se l'auto corrisponde effettivamente a quello che tu hai scritto. Dopo le verifiche sportive, qua vengono ritrati gli adesivi ufficiali che loro devono applicare obbligatoriamente sulla vettura, ok, e il numero di gara. Ogni vettura in gara che salirà sul palco sarà affiancata da una vettura staffetta, una staffetta d'onore. Alla mia sinistra le auto che parteciperanno alla gara, alla mia destra tutte le auto staffette che accompagneranno per il primo tratto. Sono davvero emozionato, c'è una puzza di benzina incredibile, è fantastico, facca un minuto e si parte. 5, 4, 3, 2, 1, è il via ufficiale alla venticinquesima edizione del rally di Monte Carlo storico da Torino. Un grosso applauso all'equipaggio numero 1. Come andiamo? Siamo pronti? Sì, ci siamo presi un po' di freddo, adesso andiamo verso le Alpi francesi e poi si inizia. Più di 130 auto alla partenza di questa manifestazione bellissima, ringrazio Mafra Maniac Line per aver sponsorizzato sia il video che l'evento. Ringrazio anche te per essere arrivato fino a qui, lasciami un like se ti è piaciuto il video e fammi sapere cosa pensi di queste meravigliose vetture qui sotto nella colonina dei commenti. E se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale. Noi ci vediamo nella prossima puntata. Ciao a tutti!